Soffre il commercio nella post pandemia e soffre anche a Pescara, soprattutto nel centro cittadino. Basta vedere le tante vetrine vuote e locali sfitti su Corso Vittorio Emanuele per capire come oggi nel capoluogo adriatico le attività commerciali siano in grande sofferenza. Il centro cittadino sostengono le associazioni di categoria, non è più attrattivo come una volta. Per questo si chiede all'amministrazione comunale quel sostegno necessario anche in vista dell'estate. Purtroppo la crisi c'è e si sente tantissimo. La sentiamo da diversi anni, anche da prima del Covid. C'è il problema del caro affitti, c'è il problema dei parcheggi, ultimamente anche il pagamento dei parcheggi influisce tantissimo e poi veramente da questa crisi mondiale non se ne esce ancora. Mancava anche la guerra, il rincaro della benzina, di tutto quello che può essere il gas di casa, la luce. Noi abbiamo subito le due settimane del rincaro della benzina con la città di Pescara vuota. Il centro vuoto, ma tutta la città. Quindi questa crisi coinvolge tutti ormai. È sempre un centro bellissimo. Abbiamo appeal, abbiamo tanti bei negozi, tante belle vie. Però anche il fatto della Movida. Tanta clientela si è spostata verso l'orario serale e notturno. Poi abbiamo il problema anche degli orari con gli esercenti di Piazza Muzzi. È una situazione che veramente coinvolge tutti e non troviamo un punto di svolta. Collochiamo tutti i giorni con loro. Questa mattina leggevo sul giornale anche il programma degli eventi. C'è un dissesto monetario, però veramente si stanno attivando bene perché avremo il Giro d'Italia, avremo anche dei concerti, avremo il Flaiano che durerà due settimane. Ci sarà tanto impegno. Noi commercianti vogliamo essere coinvolti e loro ci stanno già contattando e noi saremo pronti al loro fianco.